Se volete aggiungere un profilo di accesso in ePassan Manager, iniziate facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Poi cliccate su Aggiungi un profilo di accesso e inserite il nome del nuovo profilo. A questo punto, selezionare le zone di door e i periodi di ferie o di manutenzione per questo profilo di accesso. Infine, fare clic su Salva. A questo punto, il nuovo profilo di accesso dovrebbe apparire sul lato sinistro.